Un cordiale saluto da Federico Grasso e ben ritrovati con il meteo di Arpal. Sull'Italia domina ancora l'anticiclone, che regala la Liguria all'ennesimo pomeriggio con cielo prevalentemente sereno lungo la costa e locale densamenti sui rilievi, anche associati ai isolati rovesci o temporali di breve durata. In serata potremo avere foschie e aumento di nubi basse e marittimo costiere. I venti sono in prevalente regime di brezza sul Levante, tra deboli e moderati da sud altrove, il mare poco mosso o quasi calmo a Levante, tra poco mosso e mosso a Ponente. L'umidità si mantiene su valori alti, le temperature massime sono in lieve calo, con valori compresi tra 29 e 32 gradi. Per domani giovedì 9 agosto al mattino ci aspettiamo un locale densamenti di nubi basse e marittimo costiere sul settore centrale, in rapida dissoluzione nel corso della mattinata. Nel pomeriggio soleggiato sulla costa, cumuli sui rilievi con possibili episodi a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno in regime di brezza al mattino, si disporranno da sud nel pomeriggio. Il mare al mattino sarà poco mosso o quasi calmo, dal pomeriggio aumenterà fino a diventare mosso sul centro e sul Ponente. Si manterrà su valori alti l'umidità. Le temperature minime in costa andranno tra 21 e 24 gradi, nell'introterra tra 13 e 17, massimo ovunque comprese tra 28 e 31 gradi. Venerdì 10 agosto, infine, il transito di un fronte sulle Alpi determinerà un rapido peggioramento con cielo molto nuvoloso coperto. Fin dal mattino potremo avere temporali localmente anche moderati, in particolare sul settore centrale. I venti saranno inizialmente deboli o moderati da sud, dal pomeriggio saranno deboli da nord-est a Ponente, tra est e sud-est a Levante. Il mare sarà generalmente mosso, localmente poco mosso a Levante. Ancora alti i valori dell'umidità. Temperature in lieve calo, con minime in costa comprese tra 23 e 24 gradi, nell'introterra intorno ai 18, massime ovunque tra 27 e 29 gradi. Ricordandovi che ogni altro dettaglio sul meteo Liguria è consultabile sul sito www.arval.gov.it o sulla pagina Facebook dell'Agenzia. Io vi auguro una buona giornata. A risentirci! Grazie a tutti!